Benvenuti negli audio della Sports Science Academy, oggi la segnalazione di Alberto Bianco e parliamo di strategie di riscaldamento per lo sport, l'esercizio, meccanismi e applicazioni Warm Up Strategies for Sport and Exercise, meccanismi e applicazioni di Sports Medicine del 2015 ma come vedremo ci sono veramente tante considerazioni da fare e la review è veramente aggiornatissima. Intanto le informazioni generali, ovvero tutti lo fanno, è un'attività che è pienamente accettata, ampiamente accettata allo sport nel fitness e si dice per raggiungere le prestazioni ottimali, ma il riscaldamento può essere diviso in tante forme, c'è il riscaldamento attivo e il riscaldamento passivo giusto per capirci, quello attivo ovviamente facendo attività e quindi muovendosi, cosa che si aumenta la temperatura e non solo ma anche va in deplezione di glicogeno e di scorte energetiche, poi quello passivo che tende a migliorare quindi l'effetto termico ma senza l'utilizzo di energie. Ci sono altri effetti oltre a quelli termici anche metabolici, neurologici, collegati alla psicologia che poi riveste gran parte anche dell'attività fino al 50% per tanti atleti. Quindi chiaramente uno degli effetti è anche l'aumento del metabolismo anaerobico, un aumento della cinetica del VO2 e quindi chiaramente la capacità per l'atleta di partire ad un VO2 più elevato e quindi evitare quel problema iniziale di bruciare soprattutto l'utilizzare energia dalla parte anaerobica lattacida mentre con un VO2 più alto si tenderebbe a passare direttamente al meccanismo aerobico. Allora intanto l'idea di utilizzare le tecniche di riscaldamento passivo erano un po' messe in secondo piano, adesso sembra che stiano guadagnando in popolarità ci sono anche delle considerazioni importanti che si affacciano proprio alla ricerca. Fino a poco tempo fa non c'erano tante review, tante ricerche a disposizione, abbiamo più volte parlato di una review in due parti del 2000, iniziale del 2000 e David Bishop che abbiamo anche intervistato sulla nostra pagina, australiano, dove effettivamente veniva poi spiegato che il riscaldamento ha una parte che riguarda la temperatura e una parte che non riguarda la temperatura e tutte e due sono assolutamente importanti. Quindi di conseguenza le strategie del riscaldamento hanno continuato a svilupparsi in gran parte su una grande base di prove ed errori, quindi senza una base scientifica. Allora cosa fare? Chiaramente negli ultimi dieci anni, e quindi vi consiglio di guardare solamente le review degli ultimi dieci anni, comunque superiori agli anni 2005-2010, perché ci sono nuove ricerche che possono far capire intanto cosa inserire come modello, c'è quello che va di più che magari Ramp, R-A-M-P, che vi consiglio di andare a verificare, e ovviamente inserire una serie di modalità che vanno man mano a diventare sport specifiche, iniziare con una parte generale e poi man mano chiudere con una parte più sport specifica e soprattutto che utilizzi anche una attivazione muscolare sport specifica verso la parte terminale. Ci sono delle considerazioni da fare legate allo stretching, è stato più volte detto che non va inserito nel riscaldamento quello spassivo e sarebbe meglio quello dinamico e quindi in forma molto attiva, molto attivata. Per adesso è tutto, per ulteriori informazioni sia sulla Sports Science Academy che su di me, migliaccio.it. Grazie, alla prossima.